Nonno turno del Norway Chess 2020, uno degli incontri più attesi, uno scontro tra generazioni, tra il nostro campione del mondo Magnus Carlsen e l'astronascente, il principe di Persia, Alireza Firugia, per molti uno dei prossimi campioni del mondo e tra parentesi mi posso includere nella lista. Una partita che forse non ha rispettato quelle che potevano essere le nostre aspettative, ci aspettavamo sicuramente un po' di sangue, un po' più di aggressività, specialmente da parte dell'astronascente, il giovanissimo Firugia. Comunque non è tutto da buttare insomma, è una partita comunque interessante, anche se oggi per essere completamente onesti avrebbe meritato tantissimo la partita di Tari e Aronian perché Tari ha tirato fuori un bel gioco, è uscito molto bene dall'apertura e forse gli è mancato un po' di concretezza. Aronian di esperienza gli ha girato un po' intorno e l'ha rubacchiato. Ma torniamo in contesto, cerchiamo di capire per quale motivo abbiamo portato questa partita oggi, perché è successa una cosa che si vede veramente di rado in tornei di così alto livello. Mettiamoci in contesto, anzi mettiamoci subito sulla scacchiera e cerchiamo di capire che cosa è successo. Cavallo F3, mostra scelta da Firugia che gioca con i pezzi bianchi, cavallo F6 risponde il campione del mondo Magnus Karzen, G3, C5, Alfiere G2, cavallo C6, Arrocco, E5, E4. Ovviamente non possiamo con il nero catturare il pedone E4, o meglio possiamo anche farlo, però seguirebbe torre E1 e poi se D5, D3 per esempio, e ricatturiamo il pedone senza troppi problemi in E5. Pertanto Karzen provvede a difenderlo, C3, G6, D4, C per D4, C per D4, e dopo Alfiere G4, D per E5, quando il bianco cattura, elimina la tensione centrale in quasi tutte le aperture. Succede qualcosa che noi spettatori non è che godiamo, perché si genera una posizione simmetrica dove sicuramente si inizieranno ad avviare tanti cambi, il che porta spesso a posizioni veramente molto piatte. Al di là che una partita sia patta, non è che la patta sia un risultato che disturba lo spettatore se è giocata a sangue, no? Però porta veramente a una partita molto tecnica, che solitamente persone di più basso livello, più basso elo, che è praticamente la maggior parte di quelle persone che seguono questi eventi, non riescono ad apprezzarle poi veramente, no? Quindi in partita è un po' così, diciamoci alla verità, un po' di merda, dai, una partita che non ci piace vedere. D per E5, cavallo C3, alfiere G7, H3, forza praticamente il cambio in F3 per guadagnare la casa D4 per il cavallo, che salterà a breve. Fiduze interpone questo cambio di donne, così la partita finisce di essere veramente, come direbbe Marco, la lotta al cloroformio. Donna per D8, torre per D8, alfiere per F3, si recupera il pezzo. Arrocco corto, re G2, migliorando di poco la posizione del re. Cavallo arriva in D4, qua non mi perdo in commenti, perché la posizione è simmetrica ed è ovvio che il nero giocherà per la casa D4, il bianco per la casa D5 e tutte le manovre che stanno facendo i giocatori vanno proprio a risolvere queste esigenze strategiche, no? Alfiere G5, appunto, attacchiamo il cavallo che controlla D5. Voglio subito arrivare al punto, ecco, questa è la verità. Il bianco combatte per la casa D5, pertanto cerca di eliminare il pezzo che la difende. H6, forza il cambio, alfiere per F6, alfiere per F6, guardate che simmetria, no? Veramente scandaloso. Cavallo D5, torre D6, torre di AC1, alfiere D8, l'alfiere ovviamente che sbatte contro il suo pedone, no? Cerca un posto migliore in cui vivere. Torre di FD1, re G7, cavallo E3, ok. Torre A6, si cerca di toccare debolezze, A3, H5, cavallo C4, alfiere F6, qua veramente non c'è nulla da commentare. Se provate a mettere questa partita dentro al vostro computer c'è 0.000, cioè è 0 sta partita, non c'è nulla. H4, torre C8, cavallo E3, torre AC6, torre per C6, torre per C6, si semplifica tutto, torre D3 ed è qui che le idee cominciano a farsi un pochino più interessanti. Perché abbiamo questa posizione simmetrica, quindi alfiere di colore contrario, entrambi quindi che sbattono contro i propri pedoni centrali, perché se la posizione è simmetrica vuol dire che gli alfieri sbatteranno contro i pedoni e quindi se si cambiassero rapidamente torre e cavalli potremmo arrivare, possiamo dire con certezza, ad un finale completamente pari. Che cosa succede? Che cosa dà il Pepe, quel minimo nascostissimo di retro gusto, no? Ma di Pepe ci sta un pochettino. Manovre dubbio come quella che ha appena iniziato Firugia. Che cosa succede? L'idea di Firugia sembrerebbe quella di andare a cambiare la torre in C3, perché succede che il nero, l'unica cosa a suo vantaggio, che ha praticamente, a parte il cavallo in D4 che è una bestia, ma diciamo che il cavallo bianco anche può raggiungere la casa D5, generando una sorta di simmetria posizionale tra cavalli e alfieri, pertanto notiamo che il pezzo che fa la differenza in questa posizione è la torre, no? La torre del nero controlla l'unica colonna aperta, no? Perché il cavallo in D4 sta facendo da tappo e sta chiudendo la colonna D, che è anche se è una colonna aperta. La torre bianca non riesce a combattere per la colonna C, perché non dispone della casa C1, perché diventa difficile manovrare il cavallo per fargli controllare la casa C1, e peggioreremmo di molto la sua posizione, e non può farlo nemmeno in C2 con l'appoggio del cavallo in E3, perché il cavallo da D4, levo un po' di frecce che se non si capisce niente, il cavallo da D4 gliela toglie questa casa. Quindi Firuza cerca di combattere, contrastare l'attività del nero sulla colonna C attraverso questo cambio di torre, che però porta a un problema grosso, ed il problema è che roviniamo la struttura. I petoni A e B si dividono in A, C, salute, e questo crea qualche motivo interessante per Carlsen, ed è un po' qui che gira la partita, perciò mi sono un po' sbrigato, visto che la partita è anche un pochino lunga. Alfiere D8, mi intervanno semplicemente all'alfiere, alfiere D1 guardate com'è simmetrico, mi sta venendo il conato di vomito, torre C1, la torre si butta subito nelle fila del nemico, alfiere B3, B5, torre D1, e questa è una mossa molto interessante da parte di Firuza, che dimostra sempre, nelle posizioni molto difficili, perché lui spesso finisce in queste posizioni difficili, perché è un talento enorme, è uno dei migliori in assoluto. Però l'inesperienza, a 17 anni questo ragazzo, si fa sentire, quindi sebbene sia fortissimo, in realtà commette ancora qualche leggerezza, soprattutto dal punto di vista posizionale, che vecchi Marpioni, come il campione del mondo, che è stato tra i migliori giocatori di posizione della storia, è normale che poi, no, ti vanno a punzecchiare, però lui ha sempre st'inventiva, riesce sempre a creare quella situazione dove è difficile andare a sfruttare un vantaggio. Che cosa succede con torre in D1? È ovvio che se cambiamo le torri, il bianco ha risolto il suo problema, non il bianco cercava il cambio delle torri. La variante, tra virgolette, critica, o comunque l'idea di Firuza, era che se il cavallo adesso avesse catturato in B3, difendendo quindi la torre momentaneamente, lui avrebbe catturato l'alfiere in difesa in D8 e dopo torre B1, vedete che la torre non può scendere in seconda perché c'è il cavallo per difendere il punto B2 e giocare il cavallo in D1 è qualcosa come una sorta di sconfitta, no? In tutti gli effetti, una sconfitta posizionale, no? Se devi rimettere un cavallo in B1. Pertanto qua la mossa da giocare sarebbe stata torre D3, torre per B2 dando il pedone, ma cavallo D1 si genera una ripetizione perché attacchiamo la torre che difende un cavallo che è attaccato al momento dalla torre bianca. Se torre B1 per continuare a difendere il cavallo, cavallo C3 e se torre B2 si ripete la posizione. Se la torre cambia colonna, per esempio, si genera un cambio di pedoni che non fa che semplificare ancora di più questa posizione. La posizione resta simmetrica, quindi non è una semplificazione che genera delle asimmetrie che poi si possono sfruttare. Resta simmetrica e fondamentalmente totalmente pari, no? Cavallo per B5, cavallo C5, torre E3 per difendere E4 e dopo A5 vedete che abbiamo una posizione che è veramente totalmente simmetrica e quindi pari. Un'idea molto interessante da parte di Firuza che in effetti ha un problema concreto da risolvere, no? Questa colonna C. Carlsen che sa il fatto suo, cosa fa? Solitamente cerca di non semplificare mai la posizione, restare con i pezzi sulla scacchiera convinto di riuscire a fare delle cose più belle rispetto al suo avversario. È il giocatore C8, una mossa che sembrerebbe assurda, no? Cioè il prenenatore la ridire direttamente, che hai fatto? In realtà è molto utile perché comunque Carlsen in questo modo potrà ricollocare i suoi pezzi nel migliore dei modi, il cavallo D4 ovviamente non avrà bisogno ma l'alfiere in D8 sicuramente si può migliorare così anche come la posizione della torre e dei pedoni soprattutto dell'ala di donna e cercare di coordinare in qualche modo una sorta di attacco o comunque pressione. è quello che interessava. C'è da aggiungere che siamo alla mossa 29, mancano 11 mosse alla quarantesima, mossa in cui solamente allora scatterà un incremento di 10 secondi per ogni mossa giocata. Quindi si gioca, come si suol dire, a finish, cioè si alzerà il tempo, perdi la partita, questo è il concetto. E in questa posizione Firu già aveva all'incirca una decina di minuti sull'orologio, se non sbaglio ne aveva 14 per giocare 11 mosse e nelle prossime mosse ne ha spesi parecchi quindi è normale che Karsen, questa è l'intelligenza, perché comunque ricordatevi non è da mascalzoni, non è da infami come diciamo noi giocare con il tempo dell'avversario. Il tempo è un elemento del gioco agonistico, imparare a gestire bene il tempo equivale a migliorare anche tecnicamente in qualche aspetto scacchistico perché è una componente del gioco. Pertanto Karsen è ovvio che non è che bisogna essere gentilone sulla scacchiera, magari usciamo dalla scacchiera, ci andiamo a prendere una birra e siamo i più grandi amici della storia, ma sulla scacchiera è sangue, cioè sulla scacchiera io desidero che ti succedano le cose peggiori in assoluto e Karsen che è il campione del mondo vuol dire che è il migliore del mondo a fare questo. Mette ogni mossa un problema all'avversario che con scarsità di tempo avrà molte difficoltà a risolverle, questo potrebbe dargli qualche possibilità di vittoria, è ovvio che Karsen contro Firuza cerchi di concludere la partita nel tempo lungo, negli scacchi pensati e non andarsela a giocare con lancio di moneta in un Armageddon dove Firuza potrebbe veramente dargli molto 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 fastidio. Quindi Karsen ritira la torre proprio per questo motivo qua, per andare a infastidirlo e andare a giocare un po' sul tempo anche dell'avversario. Alfieri a 2, a 5, avanzano i pedoni, torre d3, a 4 e si blocca la struttura da questo lato. Molto interessante l'idea di Karsen. Re f1, alfiere b6, migliorando l'alfieri come detto, e torre c3. Questo è l'errore commesso da Firuza, che poteva veramente metterlo in difficoltà. È vero che comunque Firuza perde la partita, però non è stato a causa del suo gioco o di una difesa non trovata, ok? C'è stato qualcos'altro, lo vedremo. Torre per c3. B per c3, come vedete, la struttura del nero è migliore di quella del bianco, perché tutti questi pedoni qua, sono simmetrici ovviamente, quindi vanno bene per tutti e due i colori, no? Formano un'unica isola, dopo f6 questa sarà un'unica catena compatta di pedoni. La stessa cosa non si può dire dei pedoni bianchi sul lato di donna, che si sono divisi, tra loro c'è uno spazio vuoto, una sorta di fiume che passa tra le due sponde, e una struttura peggiore, quindi due pedoni che si potranno in futuro attaccare. Cavallo b3, e questa è la mossa che probabilmente sarà sfuggita a firugia, io immagino, non lo so, perché ovviamente non si può prendere quel cavallo. Prendere quel cavallo equivale ad abbandonare, perché si crea un fortissimo pedone passato e al momento opportuno l'alfiere può combinare sia la minaccia di cambiarsi con il cavallo in e3, sia da c5 gli attacchi sul pedone a3, quindi qualcosa per forza dovrà perdere il bianco, e quindi niente, quindi si evita di giocare questa cosa, si evita di cambiare il cavallo in b3. Re in e1, alfiere c5 attaccando la debolezza, cavallo c2, mossa unica per difendere, e qui Karzen probabilmente gli sfugge qualcosa, perché la mossa probabilmente migliore, o comunque così Stockfish la giudica, è giocare f5 e cercare di creare subito una tensione sul centro. F5 in effetti, gli ho dato un'occhiata, perché qua beato a chi ci capisce in questa posizione è un macello, f5 per f5, g per f5, cavallo e3, ed in effetti è molto interessante. Andare a cambiare l'alfiere ovviamente non è una cosa che ci conviene, prendere il pedone in a3 genera contro gioco, perché c'è la presa del pedone in f5 con scacco, e quindi il bianco accenna, attira fuori la testa dal sacco, quindi dopo re f6 per difendere il pedone, cavallo d5 scacco, re in g6, qui la posizione del nero è preferibile, perché il finale è molto semplice. Cavallo b4 non sembra una mossa, cioè sembra una mossa forzata, a dire la verità, perché stiamo attaccando il pedone a3 con il nero, quindi come lo difendiamo? Non abbiamo un altro modo che mettere questa mossa sulla scacchiera. Pa, dopo i 4, il nero ha un gioco abbastanza chiaro, mentre il bianco, specialmente se stiamo senza tempo, non è chiaro come si debba coordinare per la difesa. Cioè diciamo che il nero può anche permettersi l'uso di giocare leggermente impreciso, perché magari su 10 mosse possibili, dico un'assurdità, 6 sono sufficienti. Il bianco, su 4 mosse possibili, ce n'ha solamente una che tiene, magari no? Comunque è sicuramente un finale molto vantaggioso per il nero questo, no? Si cercherà di portare il re al centro e a certo punto, in un momento opportuno, cambiare l'alfiere per il cavallo e infiltrarsi con il re e andare ad attaccare questi pedoni deboli, no? Perché sappiamo già che l'avversario, una volta che l'alfiere prenderà in b4, dovrà prendere di c per evitare che con la presa di a ci generi un pedone passato che potrebbe essere proprio il problema principale che darebbe la vittoria al nero. Dopo cavallo c2 Carlsen cerca una linea più concreta, sto vedendo ultimamente nelle sue partite che cerca sempre una chiusura tattica, una chiusura forzata, secondo me sarà facendo un grosso lavoro da questo punto di vista, perché cerca quelle posizioni, non è da lui, cioè non dico la verità, è fortissimo praticamente, se no non era il campione del mondo, però lo vedo proprio cercare quelle soluzioni. Nelle ultime partite si è visto proprio questo, cavallo c1 o linea concreta, perché attacca l'alfiere in a2 e minaccia cavallo d3 scacco con doppio e guadagno del pedone f2. È vero che però anche Firuza ha le sue chance, alfiere d5, cavallo d3 scacco, re2, cavallo per f2 e alfiere in c6. Ovviamente il nero è un pedone di vantaggio, ha un pedone di vantaggio, però è vero anche che il pedone b5 è morto, quindi voglio dire, fino a un certo punto. Il problema è che ha impresa anche il pedone di a4. In questa posizione Carlsen si è fermato a pensare molto, probabilmente deve essergli sfuggito qualcosa, non ho idea di che cosa, io immagino la mossa di Firuza che seguirà, perché in effetti crea problemi di coordinazione sui pezzi e non è chiaro come continuare a giocare per un vantaggio. Carlsen gioca f6, cavallo d3, questa è la mossa che secondo me l'ha infastidito o non ha visto, non lo so, perché ovviamente se adesso Firuza catturasse in b5 il nero è in netto vantaggio, perché succederebbe che dopo alfiere per b5 e cavallo per e4, stiamo dando anche un doppio qui. Non possiamo prendere il pedone in a4 con il bianco, perché se alfiere cattura cavallo per c3, scacco e doppio. Qui è intoccabile, questo significa che dovrò muovere il re o dovrò fare qualcosa, comunque perderà un pedone, in poche parole, qui in questa posizione il bianco. E questo finale è totalmente vinto per il nero, no? Deve essergli sfuggito cavallo d3, mi viene da pensare, ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti, perché io questa non l'ho capita. Perché cavallo c1, scelta in precedenza, la rivediamo, è una mossa molto concreta, no? Perché stai facendo qualcosa ed hai bisogno di calcolare e di vedere più in là. E non mi sembra così lontana la sequenza, sono quattro mosse per Carlsen e una passeggiata arrivare a cavallo d3, non so che cosa gli sia mancato, forse non l'ha presa in considerazione. Comunque, cavallo d3, cavallo h1, non si vede tutti i giorni alla quarantesima mossa un cavallo nero in h1, cavallo in f1, cavallo per a3. Qualcuno si sarà chiesto, ma perché cavallo h1? Che è sta mossa, no? E qualcuno si può pensare, può anche dire, no? Faccio l'f3 e mi difendo il pedone, no? Il problema è proprio quello, c'è stato il trucchetto, no? Perché quando fai questa qua, c'hai cavallo per g3, no? E se te va a mangiare il cavallo, perdi questo. È vero che questo è un finale di alfieri di colore contrario, però è vero anche che la debolezza dei pedoni qua, no? E due pedoni in più, oddio, questo non lo so se riesci a vincerlo, eh? Però, voglio dire, non può mai sta male qua il nero, no? Gioca tranquillo, se va a giocare finale con due pedoni in più, e vediamo. Comunque, Filugia c'è la migliore cavallo f1, alfiere per a3, alfiere per b5, qua si cambiano tutti i pedoni fondamentalmente, alfiere b2, alfiere per a4, alfiere per c3, re f3, e in questa posizione Carse ne ha un pedone in più, però, in effetti, con la presenza di alfiere di colore contrario e questa specie di fortezza del bianco, sembra difficile dire che qui si possa riuscire a forzare questo finale, no? Especialmente da due esseri umani, voglio dire. Alfiere d4, g4, e Filugia giustamente avvia una serie di cambi, no? proprio per sbrigare la faccenda, h per g4 scacco, re per g4, cavallo f2, il cavallo riesce ad uscire, re f3, re h6, cavallo g3, per togliere la possibilità al re nero di andare in h5, quindi di avvicinarsi alla debolezza, al pedone debole in h4, cavallo d3, alfiere e8, cavallo c5, cavallo e2, cavallo in e6, alfiere f7, e qui era facile, facile, per loro no, però per noi, e qua è facile sbagliarsi, no? Perché io vi chiedo, che mossa giochereste qui? Potrebbe venirci da pensare, no? Perché se giochi cavallo d8, c'è alfiere d5 ed il cavallo è dominato, giochi con un pezzo in meno, non voglio dire che sta meglio il bianco, però la posizione adesso sicuramente è patta, no? Il pedone in meno, non lo accuso se tu giochi con un pezzo in meno. Se invece l'altra mossa che possiamo giocare ad esclusione, no? Scarti cavallo d8, gioco cavallo c7 direttamente, no? Anche questa mossa avrebbe creato qualche difficoltà in realtà, perché dopo il cambio, presa presa, potremmo avere re2 per andare a mangiarci il pedoncino, no? Re in h5, re in d3, per esempio, cavallo b5, alfiere in c4, e vedete che riusciamo a raggiungere una posizione di parità, voi vi chiedete come, quando, dove, perché, cavallo deve tornare in a7, oppure, non lo so, in d6, ma è più o meno la stessa cosa, perché su cavallo d6 abbiamo alfiere 6, difendiamo il pedone, dopo re per h4 e re per d4, abbiamo una posizione in cui probabilmente si riusciranno a cambiare i pedoni e ed f, e l'alfiere si schianta sul pedone in g6, e questa partita è molto, molto, molto semplice da pareggiare. Che cavolo dei varianti, però, eh? I finali sono un casino, ragazzi, bisogna approfondire, bisogna studiarlo, bisogna studiarlo, bisogna studiarlo. Sui finali veramente imparate tantissimo, e vi aiutano tanto, non solo per il finale in sé per sé, come fase del gioco, ma anche come visione di gioco per quanto riguarda anche le altre fasi del gioco. Sui danni finali potrete giocare meglio anche le aperture, perché i finali ci aiutano con pochi pezzi a trovare il piano e a cercare di coordinarli, no? E danno anche qualche idea in apertura. Migliorano almeno dal punto di vista concettuale la qualità del gioco. Carlton comunque non gioca queste schifezze, e cerca una mossa che cerca di combattere un po' di più, cavallo c5. Ora, dopo cavallo g3, alfiere c3, e h5, per continuare ovviamente a semplificare ancora di più la posizione, alfiere e1 è l'idea di Magnus, è spettacolare. Senza che ve lo dico, qua Firuja giocava praticamente con la ricarica dei 10 secondi per mossa, no? Giocava con i 10 secondi, qua aveva circa 15 secondi, quindi doveva fare scelte molto difficili, in tempo molto rapido, ed è ormai quasi una decina di mosse che viene con questo tempo, quindi notevole, no? La precisione e la tenacia. Alfiere per g6, alfiere per g3, re per g3, re g5, la mossa che aveva visto Carlton, e qual è l'idea del nero? Che con il suo cavallo, inevitabilmente, si andrà a pappare h5, no? Per esempio cavallo e6, cavallo f4, cavallo per h5, e questa manovra è inevitabile perché il range g3 non riesce mai ad aiutare alla difesa di questo petone qua, e potrebbe esserci un finalino con due petoni contro uno, quindi un petone in più nel finale. Che cosa succede? Questo finale, questa struttura, in un finale di soli re, è patta se il bianco riesce a mantenere l'opposizione, perché il nero non riesce a fare dei progressi, per la presenza di un petone arretrato che quando si spingono, sapete già, si cambia, c'è l'opposizione, e mi pareggio il finale con il petone in meno. È molto interessante l'ordine di mosse scelto da Carlsen per rientrare in questa variante, perché come detto, se vuole il nero, da come sta, gli basta fare cavallo e6, cavallo f4, cavallo h5, sono tre mosse lineari e schematiche, cioè Firugia, dopo che gli giocano cavallo e6, con il bianco, capisce già che perde il petone, lo sa già che ha perso il petone, no? Ma quello che fa Carlsen è cincischiare, allungare il brodo, allungare la manovra, per costringerla a pensare, a calcolare se non c'è qualcos'altro, o se non c'è qualche ordine che gli crea difficoltà. Questa è la bravura di Carlsen, metterla in difficoltà perché il suo problema è al momento del tempo. Re f3, cavallo in b3, mossa che penso non si aspettasse, Firugia, alfile f7, cavallo d4 scacco, re g3, cavallo in e2 scacco, re f3, cavallo in f4, e ha raggiunto la stessa identica posizione, però facendo due mosse in più, e quindi, due o tre mosse in più e facendo pensare all'avversario. È un genio questo uomo. Re g3, cavallo per h5 scacco, alfile per h5, re per h5, re h3. Come detto, questo è un finale elementare, questo si insegna veramente alle prime lezioni. Il re bianco, finché mantiene l'opposizione, si avvicina, ovviamente, che è lontana quando il re nero cercherà di fare il giro dietro i propri pedoni, no? Questo finale si pare già senza difficoltà perché il re nero non riesce a passare. E infatti, re h6, re h4 si mantiene l'opposizione, re g7, re g3, non abbiamo la casa g5 per andare a prendere l'opposizione, quindi scegliamo di mantenerla lontana, quindi, re su casa nera, re su casa nera, re f8, re f2, vedete che ancora una volta casa nera, casa nera, no? re in e7, re in e7, qua c'è un'eccezione, si può giocare re e2 perché il re non dispone della casa d5, quindi si può giocare anche re e2, si pareggia facilmente ugualmente, re in e8, re in e3, re d7, re d3, re d6, e qua, tutti quanti noi sappiamo che se si gioca re d2, per esempio, no? Pareggiamo lampo, ma anche, ma anche niente, per forza re d2, no? Non abbiamo altra scelta, e non so che cosa sia successo nella testa di Firugia, che, a patta praticamente, sulla scacchiera, gioca re c3, e dopo re c5, è forzato ad abbandonare, non ho mai visto un GM perdere un finale di Bedoni patto, tra l'altro dopo dieci mosse già giocate bene, quindi non è che l'idea non ti è passata per la mente, ce l'hai, è stata una mossa naturale, forse lo scarico della tensione, dopo aver retto con una difesa così brillante, sulla mossa finale, mi va a sbagliare, il caro buon Firugia, e perde l'occasione di andarsi a giocare, l'armageddon con Carlsen, che comunque lo avrebbe messo in una situazione molto più complessa dal punto di vista classifica, perché con questa vittoria, e con questi quindi tre punti, Carlsen si aggiudica quasi matematicamente il torneo, se non ho visto male le classifiche, bene ragazzi, questa partita non ha molto di teorico, non ha moltissimo di interessante, se non questo avvenimento proprio più unico che raro, cioè questo è un pezzo di storia, una partita a tempo lungo dove un GM perde non prendendo l'opposizione, uno scandalo no? E meritava per forza, era obbligatore, e poi ci fa sempre piacere commentare un incontro tra il campione del mondo, e un possibile, chissà, futuro campione del mondo, ci aggiorniamo domani con l'ultimo turno di questo torneo, e probabilmente coroneremo Carlsen, campione di questo torneo, e se porta a casa un bel po' di danali, grazie mille per la visione, noi ci aggiorniamo al prossimo video, probabilmente, e domenica, mi raccomando, tutti in campana, perché finalmente, grazie a Dio, ho risolto i problemi di connessione, e quindi, avremo una bella live simpatica, quindi non mancate, mi raccomando, grazie ancora per la visione, se non sei iscritto al canale, iscriviti, se ti è piaciuto il video, mi piacelo, se non ti è piaciuto, commentami, e detto questo, vi saluto, un buon giorno, ciao, adios.